Grazie a tutti. Ha erogato sui piani museali dei contributi. Inoltre, da questo punto di vista, per quanto riguarda la cura delle collezioni, dà veramente un supporto attivo a tutti i musei in materia di catalogazione e di restauro, in stretta collaborazione con l'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Lo si fa con specifiche, tra l'altro, attività di formazione del personale dei musei, affinché il personale addetto abbia una specifica professionalità in materia di catalogazione. Anche per quanto riguarda i rapporti con il pubblico, naturalmente il sistema in questi anni ha realizzato tutta una serie di sussidi finalizzati a promuovere i musei del sistema. Lo dicevo in apertura, in realtà anche uno degli obiettivi prioritari della rete quando è nata era proprio quello di promuovere la conoscenza di questi piccoli musei. In questi anni l'ha fatto in diversi modi, sussidi per lo più di tipo tradizionale, ma non solo. In quest'ottica, naturalmente, si colloca anche il portale dei nostri musei, un portale dove anche gli operatori del sistema trovano documentazione specifica, oltre naturalmente che essere un portale informativo per il pubblico in generale. Quando la rete è nata, tra l'altro, il portale è stato un'occasione per i musei di poter avere delle pagine dedicate a loro. Quasi nessun museo aderente al sistema, alla fine degli anni 90, aveva un proprio sito. Molto velocemente vi illustro quali sono questi prodotti promozionali dei musei. Innanzitutto la collana delle monografie dei musei. Siamo arrivati al 32esimo numero, per cui manca poco per finire i musei. Sicuramente è uno strumento che crea un valore aggiunto alla visita. E tra l'altro ricordo che avere un catalogo, non di tipo scientifico, ma divulgativo, come questa pubblicazione, è uno standard regionale. Erano, tra l'altro, una punta di orgoglio. Possiamo dire che anche il museo più grande aveva sì tutta una serie di cataloghi scientifici della collezione permanente, ma per quanto riguarda invece carattere divulgativo aveva un semplice pieghevole. Per cui siamo andati anche a colmare un buco a un museo, a un grande museo. Le collane, in generale, hanno un taglio sicuramente didattico, un po' trasversale, quindi diciamo adatti soprattutto a un pubblico, sì. Sì, ma un pubblico adulto non è pensato per i bambini, anche se comunque hanno dei testi agili, hanno molte immagini, ci sono tante schede di approfondimento. Ecco, una cosa da rilevare è che in più di un'occasione questo lavoro, per come funziona. La provincia cura la redazione, tutta la parte relativa alla grafica e alla stampa, mentre i contenuti, i testi e le fotografie, no, quelle vengono fornite dai direttori, dai musei. Questo anche naturalmente per garantire l'autonomia dei contenuti del singolo museo. Ecco, questo è chiaro, una rete come la nostra, una rete che lascia piena autonomia gestionale e decisionale a tutti i membri. Ed è stato, come dicevo, più di una volta, no, quando ci si incontrava per mettere in cantiere la guida, è stata un'occasione per il direttore del museo di ripensare all'allestimento, proprio dovendo dare una struttura, una sequenzialità logica ai vari capitoli. E' successo anche questo. Le monografie escono due all'anno, invece un altro strumento informativo, con cadenza quadrimestrale, è il notiziario del nostro sistema. Anche questo, come le monografie, è partito dal 97 e continua ancora adesso, siamo arrivati al numero 46. È soprattutto uno strumento che si rivolge agli addetti ai lavori, perché ha proprio focus all'interno in materia di allestimenti, catalogazione, restauro, gestione dei musei, con anche proprio per ogni numero un argomento speciale. Ma promuove anche tutte le iniziative, in programma appunto per quel quadrimestre, dei musei. E quindi è uno strumento che si trova a disposizione presso tutti i bookshop dei nostri musei. Altro strumento promozionale, sempre di tipo tradizionale, anche se interattivo, sono le audioguide. Abbiamo fornito ai 29 musei del sistema questo strumento, anche in questo caso un valore aggiunto alla visita. In tutti i musei abbiamo fornito naturalmente l'hardware, l'audioguida, ma anche i testi contenuti in italiano e in inglese. Non siamo andati oltre, visto insomma anche il giro turistico. Ecco, una cosa che non ho detto, ma insomma va chiaro. Nessuno dei musei ravennati conserva dei capolavori tali per cui, c'è chi arriva appostitamente per vedere, non so, Raffaello, così. Ne sono, hanno sedi particolarmente prestigiose a livello nazionale, appunto tali da richiedere, insomma da far sì che uno vada appositamente a vederlo. Per cui tendenzialmente abbiamo valutato che la traduzione soltanto in inglese potesse essere sufficiente. Tutti i musei hanno avuto un testo di mezz'ora tranne quelli musei più grandi. Il vantaggio qual è? A parte insomma comunque per il visitatore di avere uno strumento in più che facilita l'apprendimento informale, è anche quello che è uno strumento facilmente aggiornabile da parte degli operatori museali. Si basa proprio sullo standard del file audio mp3, sullo standard della scheda che insomma dove vengono registrati questi file e con un semplice software appunto per i file mp3 è possibile aggiornare i testi. La provincia, questo progetto anche in questo caso è funzionato così. La provincia ha dato incarico a una ditta specializzata di curare la realizzazione, la parte tecnica ma i contenuti in italiano sono stati forniti dai direttori. I quali direttori, una volta che hanno avuto in mano questo strumento, molti l'hanno implementata in maniera autonoma quindi basta cambiare la card ed ecco che alcuni musei con le audio guide comunque riescono a dare una visita per esempio ad hoc, alcuni l'hanno fatta ad hoc per i bambini qualcun altro invece l'ha fatto unicamente, adesso non mi ricordo bene, anche qual è il museo ma l'ha fatto anche per gli ipovedenti eccetera. Qualcuno è anche entrato in rete con gli altri musei del territorio per cui nell'audio guida di un museo è possibile anche fare un giro, un tour andare a visitare gli altri musei fermandosi anche davanti ad altri monumenti cittadini l'ha fatto in particolare la città di Faenza l'unica cosa che poi è un giro pensato, circolare in modo che si ritorni al museo e si riconsegna l'audio guida e quant'altro. I percorsi 3D, anche qui considerando le esigenze dell'utente che frequenta strumenti e ambienti informatici e che ha l'esigenza di ricevere risposte complesse anzi di ricevere delle risposte a delle domande complesse che vadino a pescare non solo nei musei ma anche nei beni bibliografici, archivistici eccetera. nel 2004 la provincia ha dato vita a questo progetto CAMIUN e poi in realtà cooperazione e automorazione per i musei proprio per cercare di valorizzare i musei, soprattutto sempre quelli più piccoli attraverso delle tecnologie. L'obiettivo era più che altro quello di musealizzare determinate aree di far sia proprio che ci fosse un'interrogazione, un collegamento tra i cataloghi delle biblioteche, dei musei e degli archivi che venissero valorizzate anche le tradizioni per cui attraverso la digitalizzazione di oggetti, anche di testimonianze orali e anche con un'attenzione, uno sviluppo per il marketing territoriale proprio per creare dei percorsi di turismo culturale. proprio a partire dalle intuzioni di fondo di questo progetto CAMIUN tra l'altro sono state alla base di una convenzione che la provincia ha stipulato con la regione Emilia Romagna e con il Ministero per i beni culturali ecco anche qui una parentesi essere una rete significa che si riescono ad attivare delle collaborazioni che naturalmente un museo piccolo da solo non riuscirebbe mai a realizzare in questo caso una convenzione che ha dato vita a questo progetto network turistico-culturale con la creazione di una serie di percorsi virtuali per quanto riguarda la provincia sono stati creati dei percorsi appunto nei musei della provincia, del sistema e poi invece la regione e il Ministero hanno realizzato altri percorsi che potete in particolare trovare sui loro rispettivi siti sono percorsi 3D quindi proprio c'è la possibilità di vivere un'esperienza immersiva anche questo è un progetto partito qualche anno fa quindi stiamo parlando comunque sapete con le tecnologie nove anni è già come dire un'era geologica per cui queste cose qui come dire non dico che sono sorpassate ma hanno anche a questo punto un loro valore per quello che sono state comunque non sono, ecco, quello che volevo dire non sono delle semplici visite virtuali sono state realizzate in questi 11 musei in realtà uno è un percorso fittizio che accomuna sette collezioni artistiche dei nostri musei comunque voglio dire il visitatore sì ha la possibilità di fare questa visita a 360 gradi nei musei tra l'altro ogni museo a suo tempo ha strutturato il percorso di visita in maniera diverso per cui c'è quello dove il piccolo museo che ha ricreato ha fatto ricreare esattamente il museo così com'era qualcun altro invece che ha come dire ha creato una sorta di visita virtuale cioè ha oscurato alcuni oggetti lasciando in evidenza solo altri in modo praticamente come se fosse una visita pilotata, guidata davanti agli oggetti altri ancora come ad esempio un ecomuseo invece di ricreare l'ambiente del museo ha ricreato proprio l'ambiente del villaggio quello di cui vi parlavo prima delle erbe palustri così com'era agli inizi del Novecento in modo da avere una valenza fortemente didattica e far capire poi l'oggetto esposto nel museo da dove arrivava ecco tutto questo per dire che la differenza rispetto magari a altri semplici percorsi virtuali è che durante il percorso ci sono degli oggetti sensibili per cui cliccando su questi oggetti andando su questi oggetti si aprono una serie di collegamenti per cui sono nella Pinacoteca Comunale di Faenza davanti a un quadro di Domenico Baccarini che è un autore faentino in inizi del Novecento cliccando sopra vedo anche nel catalogo delle biblioteche, della rete delle biblioteche romagnoli quali sono e dove sono i testi che parlano di Baccarini oppure quali sono, un rimando agli altri musei del territorio naturalmente dove sono presenti altre opere di Baccarini o nell'archivio oppure se c'è un video che riguarda Baccarini ecco che mi si apre il video quindi diciamo è un percorso come dicevo prima è la filosofia del progetto di Camus quello di far sì che l'utente che è interessato a Baccarini naturalmente non si pone il problema soprattutto in ambienti informatici di aprire la porta del museo della biblioteca, dell'archivio o dei video ma che li trova tutti indistintamente ecco insomma allo stesso momento poi vedremo che nel futuro questa stessa filosofia di Camus è andata avanti con il catalogo e con Scoprirete di cui parlerò avanti ecco anche questo come l'audioguida un sistema un po' più complesso però sempre aggiornabile autonomamente dai direttori o da chi per sia del museo per cui è possibile ricreare di volta in volta anche magari in una sola stanza dei percorsi tematici o un percorsi solo per bambini e quant'altro è la stessa filosofia delle audioguide anche sempre qui nell'ottica del rapporto del pubblico come sì prego ho letto nell'elenco un ecomuseo sì quindi una rete nella rete eh sì praticamente sì anche se questo ecomuseo tra l'altro inaugura questa domenica il passaggio da museo dell'erbe paolustri all'ecomuseo era già avvenuto qualche anno fa però come dire era ancora un ibrido per cui e tra l'altro era un museo privato a questo punto il comune di Bagnacavallo dove sorge appunto il borgo l'ha preso in gestione una nuova sede completamente riallestita con una gestione a questo punto comunale mista con quindi esternalizzazione di tanti servizi dall'accoglienza alla didattica e quant'altro ed è stato trasformato in ecomuseo ma parte l'esperienza di questo museo è nuova e parte proprio da inaugura la domenica questa domenica però intanto infatti è stato uno degli ultimi percorsi realizzati come dicevo proprio nella fase di ristrutturazione abbiamo andato avanti un paio d'anni e il museo ha fatto realizzare proprio perché tra l'altro non c'era neanche la sede dell'ecomuseo comunque ha fatto realizzare come percorso virtuale appunto la ricostruzione storica del villaggio con la lavorazione grazie ah prego e come dicevo esattamente come per il regolamento il sistema ha anche elaborato uno schema tipo per la carta dei servizi che esattamente come il regolamento poi ogni museo ha declinato sulla base delle proprie caratteristiche ed esperienze è noto cos'è la carta dei servizi questo documento insomma che elenca va bene comunque allora vado avanti infine l'ultimo standard quello del rapporto con il territorio anche qui la provincia più che altro ha cercato di attivare nel corso di questi anni tutta una serie di collaborazioni di rapporti interistituzionali che potessero legare maggiormente i nostri musei i musei del territorio con altre istituzioni culturali o non del territorio anche in questo caso proprio nell'ottica di rafforzare il distretto culturale d'altra parte una rete è proprio questo vive sul territorio i nostri musei sono tutti strettamente hanno collezioni strettamente legate al territorio e la provincia ha sempre cercato come dire di trovare collaborazioni e attivare proprio delle attività dei progetti in raccordo con altri soggetti del territorio anche qui genericamente ma a questo punto vado avanti e come vi dicevo dopo aver visto tutto quello in breve tutto quello che il sistema ha fatto dal 1997 quindi in questi 15 anni di vita avevo pensato così di fare una panoramica di entrare un po' più nello specifico ma sempre andando velocemente per quanto riguarda i servizi educativi perché perché l'avete visto alla fine il nostro sistema ha sempre avuto un'attenzione particolare ai servizi educativi a partire dal progetto scuole-museo nato nel 94 quindi prima ancora della nascita della rete e anche qui mi riallaccio allo standard di cui si parlava prima quello cioè che bisogna che lo standard prevede appunto la funzione educativa in maniera adeguata e continuativa anche e che sia naturalmente in possesso delle necessarie competenze anche in questo caso nel nostro regolamento tipo che ricordo quasi tutti i musei hanno adottato adattandolo naturalmente il nostro regolamento è chiaramente prescritto che scritto che i servizi educativi per i servizi educativi il museo deve far ricorso a queste professionalità adeguate come affidando a personale specializzato interno laddove possibile altrimenti esterno e sul contratto di servizio naturalmente vengono sempre riportate e specificate tutte le competenze che devono avere gli operatori responsabili della didattica quindi da questo punto di vista è chiaro volevo capire se rispettavate anche le indicazioni della carta nazionale delle professioni museali per quanto riguarda i requisiti lo dico così so già la risposta sì questa è una domanda che si dovrebbe fare al singolo museo che lo fa adesso magari alla carta noi cerchiamo di cioè se sia a conoscenza di realtà che adottano la carta ecco mettere in atto delle azioni affinché tutti amministratori in primis e tecnici dei musei fossero a conoscenza di questi strumenti e si adeguassero naturalmente a quel tempo avevamo anche un po' l'arma in mano di dire se non lo fai non ti finanzio se non lo fai quando facciamo un progetto di promozione tu resti fuori un po' una sorta di ricatto ma tant'è a bomba però questo sì sicuramente è anche il fatto di averlo scritto nel regolamento dove vengono ricordati tutti questi documenti dove si dice questo è un esempio della funzione didattica ma questo vale per tutte le altre professioni che si trovano all'interno di un museo quello del rispetto di questi documenti quindi della direttiva degli standard ministeriali e maggior ragione della carta delle professioni immagino che per gran parte dei musei dei vari comuni ci sia penso per la funzione educativa una gestione associata per l'esperienza vostra come provincia di Ravenna in genere è un servizio esternalizzato una cooperativa un'associazione se mi puoi raccontare qualcosa di più specifico anche dal punto di vista giuridico come funziona c'è una gara d'appalto c'è un incarico diretto mi sembra che abbia anche comunque delle slide su questo comunque sì quasi sempre abbiamo nella provincia di Ravenna tra l'altro una cooperativa che offre servizi didattici tra l'altro sono molto bravi molto dinamici Atlantide e la cosa adesso la raccontavo prima sono partiti è partito un museo due esternalizzando i servizi didattici a questa cooperativa che è una cooperativa di Cervia e poi tanti altri musei del sistema si avvalgono della stessa cooperativa per i servizi didattici tant'è vero che come sistema anche magari dovendo ripensare a come riorganizzarsi sulla base sia delle riforme istituzionali sia della mancanza totale di fondi alla fine si pensava anche proprio una soluzione di fare un appalto noi come rete oppure comunque di spingere il più possibile i musei ad associarsi e quindi far sì che anche il piccolo museo che adesso è scoperto formalmente abbia almeno per un giorno alla settimana un addetto alla didattica in quel caso magari non sarà il responsabile il responsabile sarà sempre in capo al direttore però operativamente c'è una persona qualificata in gamba e che tra l'altro è in rete con altri musei del territorio anche infatti qui come vedete la responsabilità di questa funzione può essere assegnata come diciamo prima al direttore al conservatore oppure una figura professionale specifica in convenzione tra più musei oppure comunque esternalizzata dipende con l'appalto in concessione comunque quello che stiamo vedendo noi nella provincia di Ravenna forse la soluzione più idonea è proprio quella della funzione associata sì anche perché non ci dimentichiamo stiamo parlando sempre veramente di piccole realtà piccolissime per cui spesso se si trovano dei fondi per sono proprio residuali quindi non è neanche conveniente a un certo punto dire ho il responsabile della didattica per un giorno alla settimana comunque insomma sono al vaglio varie soluzioni in questo momento devo anche dire premetto noi come sistema museale stiamo elaborando e stiamo pensando a come ci si possa evolvere però siamo anche in un momento come dire di limbo limbo istituzionale per cui in questo momento siamo per esempio come dicevo il bilancio non è stato neanche approvato abbiamo siamo fermi anche per quanto riguardano noi nostri incarichi stessi siamo fermi tra l'altro io stessa da quest'anno mi occupo anche della rete delle biblioteche per cui da un certo punto di vista il sistema è proprio in una fase di ripensamento ma queste sono le priorità insomma capire come aiutare i musei per quanto riguarda le figure professionali che ci lavorano perché è chiaro sono fondamentali è quella la cosa che conta di più avere nel museo una persona altamente qualificata in tempi di crisi significa comunque riuscire a erogare dei servizi a costo zero diciamo così è per quello che si pensa soprattutto alla forma associata esternalizzata ma associata questo appunto perché la gestione associata comunque ha dei vantaggi cioè è più stabile quindi più simile da questo punto di vista alla soluzione interna cioè del personale in pianta organica però riesce anche naturalmente a ottenere delle economie condividendo la figura del responsabile dei servizi museali educativi appunto era quello che dicevo complessivamente a costo zero è possibile avere e dare dei servizi educativi c'è una stessa figura che viene pagata quindi il contratto verrà fatto per esempio dal museo capofila il museo fa capofila che esternalizza questo ruolo dopodiché la persona non lavora solo in quel museo ma lavora in cinque musei dopodiché quota parte gli altri quattro musei daranno una quota minima una quota con la quale non sarebbero riusciti a prendere il responsabile della didattica o qualcuno che cura la didattica nella maniera più assoluta è per quello che dicevo piuttosto che niente in questo modo comunque è un servizio per quanto minimamente ma garantito poi torno a dire spesso lavorando in maniera associata il responsabile della didattica l'abbiamo visto perché è successo riesce a organizzare delle attività mettendo in condivisione i musei per cui riesce a proporre un'attività facendo il tour di tre musei se non di tutti e poi in ogni caso c'è proprio la cosiddetta l'economia anche magari se possibile con la stessa tipologia così progetto un'attività didattica il fatto di replicarla magari in un altro museo o due è comunque un appattimento dei costi quelle cinque attività didattiche fatte nei cinque musei associati comunque costano sicuramente meno se la stessa attività fosse fatta singolarmente dai musei quindi la gestione associata consente di abbattere i costi di produzione quello che dicevo quindi ognuno spende di meno ma anche di migliorare il servizio quindi è un po' la teoria del networking inoltre anche il fatto di offrire dei servizi con una maggiore qualità e su un ambito territoriale più esteso quindi non solo in un museo ma in più comuni magari permette di trovare maggiori entrate soprattutto dal privato anche questo l'abbiamo visto la fondazione bancaria di turno è più contenta di sponsorizzare un progetto che copre tutta l'area provinciale piuttosto che il solo comune forse anche di Ravenna che quindi è un comune grande e quindi qui vedremo che questa logica vale per noi che siamo una rete di coordinamento ma vale ancora di più laddove ci sono e si mettono in atto delle reti gestionali tra comuni perché poi è un po' la strada segnata il problema qual è? poi magari nella seconda parte della giornata io parlo proprio di quello il problema è che la legge obbliga alla gestione associata i piccoli comuni quelli sotto i 5.000 abitanti che non sono neanche pochissimi insomma ce n'è soprattutto queste piccole realtà piccoli comuni però ahimè li obbliga solo per le funzioni fondamentali laddove la legge ha decretato che la cultura non è una funzione fondamentale non commentiamo questa cosa ma come se non avesse nessuna importanza e quindi alla fine i comuni piccoli poi il problema qual è? questo vale sicuramente per i comuni piccoli ma vale anche per i comuni grandi perché magari i comuni piccoli i musei piccoli sono costretti quasi a chiudere in questa condizione ma anche quelli grandi non riescono più a erogare tutta una serie di servizi che avevano una certa qualità e una certa quantità quindi anche lì gli si abbassa per forza o alza i costi difficile di questi tempi quindi è costretto ad abbassare la qualità è per quello che come dire io sinceramente mi auguro che si arrivi a trovare appunto tramite convenzione o tramite unioni dei comuni quello che è ma delle forme associate e gestire anche la cultura a parte il fatto che non è un obbligo farlo e in questo punto dicevo come i piccoli musei lo devono fare sono quasi obbligati per le condizioni ma anche i grandi insomma hanno tutto il vantaggio di trovare una gestione associata per quanto riguarda la didattica tutta una serie di contributi o supporti dati ha fatto sì che attualmente 25 musei sui 39 hanno approvato il regolamento prevedendo la figura del responsabile 21 musei contano sul responsabile dei servizi educativi nominato formalmente ecco e tra l'altro 22 di questi musei hanno una sezione didattica adeguata questo grazie come vi dicevo al supporto del laboratorio il supporto che vale per quelli più piccoli il laboratorio prima mi si chiedeva in concreto che cosa fa da un contributo finanziario ma anche scientifico di consulenza nella realizzazione di aule didattiche aiuta nella pianificazione coordinata delle attività didattiche anche qui sentite le scuole ultimamente meno ma per tanti anni come vi dicevo c'è stato una stretta collaborazione con le scuole anche le scuole sono venute un po' meno con tutti i problemi che hanno per cui spesso abbiamo trovato non dico la porta chiusa ma quasi altre attività sono dei supporti dei sussidi proprio didattici anche le guide a fumetti dopo ve le mostro e comunque supporto formativo quello sicuramente sia per gli operatori che per come vi dicevo per gli insegnanti ma ultimamente soprattutto per gli operatori sono le scuole primarie o le scuole secondarie di primo e di secondo grado che chiedono la visita o l'uscita didattica sono soprattutto le scuole materne e le elementari meno sicuramente le scuole medie e ancora meno le superiori è vero anche che solo i musei più grandi hanno un'offerta mirata per questi target di studenti il planetario lo ricordavo prima è uno dei musei che lavora molto anche con gli studenti delle scuole superiori per esempio però sono più casi sporadici la maggior parte sono materne e elementari lavora molto da questo punto di vista la pinacoteca comunale di Ravenna con tutte le scuole ma insomma quindi da questo punto di vista ecco infatti le aule didattiche che sono state realizzate alla fine sono soprattutto come dire pensate per il target dei più piccoli esatto sì proprio per questo i sussidi sono la come vi dicevo prima la guida cartacea che presentavamo alle scuole che raccoglie tutte le offerte formative e tutte le effette didattiche dei musei negli ultimi anni però abbiamo smesso di stamparla anche per per tutti i costi che comportava sì e anche devo dire sinceramente per il gran tempo che ci voleva a raccogliere insomma i dati dai musei e poi redazione fare la redazione stampare e quant'altro per cui questa guida adesso è solo online sul nostro sito c'è una sezione in cui tra l'altro è anche più veloce e facile ricercare le offerte dei musei perché ci sono vari filtri per la ricerca per cui cerco solo il laboratorio archeologia per le scuole superiori e quindi vedo quali sono i musei del sistema che hanno fanno proposte e anche i quaderni i quaderni didattici sono due tipi di quaderni quelli pensati proprio quelli che vengono dati al museo a sussidio delle proprie attività didattiche questo per esempio era un laboratorio del museo Ugonia di Brisighella Ugonia un artista che ha prodotto tutta una serie di incisioni e quindi spiegava ai bambini come disegnare appunto come incidere e anche dei quaderni invece a supporto proprio degli insegnanti sono anche quaderni che poi raccolgono gli atti dei convegni che ogni anno organizziamo ma non solo Guida a fumetti ecco questa è un'altra collana che abbiamo inaugurato a proposito di target è stata fatta pensata appositamente per gli adolescenti se vi occupate di didattica lo sapete o l'adolescente quel target di pubblico che al museo ci va solo sotto tortura o quasi e quindi abbiamo pensato di realizzare uno strumento anche qui per far conoscere il patrimonio culturale museale della nostra provincia in una maniera diversa usando appunto il linguaggio del fumetto che comunque è un linguaggio che piace all'adolescente abbiamo cercato di non fare qualcosa quindi di didascalico tipo non so la storia Fumetti di Biagi ma proprio è una storia nel corso della storia della narrazione si incontra o si arriva casualmente al museo per cui sicuramente abbiamo visto che perlomeno ha avuto un buon successo tra i ragazzi comunque come dire non è alla fine non è arrivata solo a loro è arrivata anche a tutta quel target quel settore di pubblico adulto che non è per niente attratto dalle forme promozionali tradizionali quindi questo è un modo per veicolare informazioni anche a chi vede un fumetto e lo legge invece se vede scritto museo non l'avrebbe mai aperto abbiamo realizzato tre albi tre guide a fumetti la quarta purtroppo è rimasta nel cassetto con la scura dal 2009 in poi abbiamo veramente congelato tante iniziative la cosa interessante è che abbiamo anche realizzato una mostra quindi i pannelli che raccontano a fumetti i musei una mostra itinerante è stato ospitato spesso dai nostri musei e ogni volta il museo ha poi organizzato dei laboratori con le scuole soprattutto scuole medie a questo proposito proprio su come si crea come si disegna fumetti come si crea una storia a fumetti quindi tutte le varie fasi di realizzazione un altro sussidio pensato soprattutto per gli adolescenti il gioco di ruolo il gioco di ruolo non so se sapete cos'è in questo caso l'abbiamo realizzato in collaborazione con il museo della battaglia del segno di Alfonsine la direttrice ha dato non solo la sua consulenza scientifica alla redazione dei testi ma anche un contributo finanziario per la realizzazione quindi tutti i contenuti sono stati ecco questo sì fatti in casa naturalmente funziona sempre così la provincia poi appalta o dà l'incarico a una ditta specializzata in questo caso una ditta che si occupa di creare dei giochi poi per realizzare il prodotto l'argomento si chiama Segno 1945 perché racconta proprio l'esperienza della guerra della lotta di liberazione dai nazifascisti che negli anni 44-45 si è avuta sul territorio Ravennata in particolare lungo appunto i comuni del fiume Segno i ragazzi abbiamo visto che anche questo ha avuto veramente molto successo non solo questo gioco è stato acquistato anche da alcune ludoteche non solo del territorio ma della zona ma anche in giro per l'Italia anzi è in corso una traduzione per quanto possibile in francese perché anche i francesi che amano molto i giochi di ruolo così hanno deciso di adottare di tradurre appunto questo gioco quindi funziona molto con le classi ma addirittura ci giocano anche nelle ludoteche è un modo molto valido di far conoscere ai ragazzi in questo caso la storia del territorio Ravennate negli anni 44-45 proprio attraverso il gioco però i ragazzi interpretano vari personaggi che sono stati hanno avuto un ruolo in questa lotta di liberazione quindi c'è la staffetta partigiana la casalinga la studentessa cittadina sfollata c'è il militare e proprio con questo gioco non si è voluto dare agli studenti far conoscere una serie di numeri date e battaglie ma appunto fargli comprendere come le persone hanno vissuto quel determinato periodo storico naturalmente questo si lega con le raccolte e con le attività del museo della battaglia del segno di Alfonsine abbiamo creato tra l'altro così un format evidente che ogni museo o tipologia di museo se possibile deve come non è esportabile adesso in Francia hanno deciso di tradurlo così però è chiaro che questo gioco può essere giocato soltanto in quel preciso museo ci sono tutta una serie di vantaggi abbiamo sicuramente registrato e intanto appunto il fatto di apprendere in maniera quindi non nozionistica e non astratto come vi dicevo il ragazzo deve comprendere per forza che cosa è significato vivere quali erano le condizioni culturali sociali storiche di quel periodo per poter poi agire per poter muovere la storia storia tra l'altro che ogni volta cambia in base ai comportamenti dei personaggi anche proprio per fatto di capire una formulazione di domande e ipotesi mirate e anche naturalmente da parte degli insegnanti e del direttore responsabile della didattica del museo una verifica immediata della comprensione e poi naturalmente essendo un gioco di gruppo lo stimolo al lavoro al collaborare e anche a conoscersi anche in questo caso comunque la provincia qui parliamo sempre di didattica però non solo in materia di didattica attiva tutta una serie di collaborazioni per promuovere le attività didattiche del museo abbiamo molti musei del sistema in questo modo sono riusciti a partecipare o a far parte di specifici progetti alcuni a livello regionale altri a livello nazionale queste soltanto le ultime rassegne sono spesso archeologiche per quanto riguarda la materia archeologica per esempio sotto il segno di Roma sono stati cinque i musei archeologici del nostro sistema hanno creato tutta una serie di giochi e di attività ludiche con le quali famiglie e bambini potevano rivivere un po' la vita quotidiana nel periodo appunto di Roma antica ma non solo il pubblico scolastico anche il pubblico delle famiglie anche per il pubblico delle famiglie vengono attivate delle specifiche iniziative per far conoscere i nostri musei ad esempio la duna degli orsetti la duna degli orsi è un bagno è un lido di Marina di Ravenna a suo tempo molto frequentato e quindi abbiamo portato i musei in spiaggia c'erano tutti tanti laboratori non tutti ma almeno una quindicina dei nostri musei hanno portato i loro laboratori in spiaggia un giorno al mese da giugno a settembre devo dire un gran successo per cui ci si poteva iscrivere anche a più laboratori alla fine c'era anche la merenda offerta dal bagno ed era anche in quell'occasione tra l'altro venivano consegnate i nostri opuscoli e quant'altro in modo che anche perché le offerte didattiche dei nostri musei naturalmente non erano rivolte solo al mondo della scuola tante anche alle famiglie per cui comunque quello era uno strumento utile e siamo riusciti a difendere in un pubblico come quello appunto che va in spiaggia va al mare che magari tentativamente non sapeva resistenza di alcuni musei e quant'altro anche qui come vi dicevo prima i corsi di formazione di aggiornamento sulla didattica museale quello esattamente che vi dicevo prima quindi praticamente ogni anno vengono organizzati questi progetti cosiddetti scuole e museo ancora ma ve lo accennavo anche prima c'è il supporto proprio nella pianificazione si dà un supporto fattuale alla pianificazione annuale delle attività questo comunque e anche questo lo vi ricordo uno standard regionale in generale quindi il laboratorio ha continuamente supporto continuamente da consulenze ai nostri operatori quelli dei musei più piccoli voglio dire che tra l'altro il MIC cioè il museo internazionale delle ceramiche fa seguire le attività didattiche ha un laboratorio un laboratorio quello ispirato a Munari giocare con l'arte ed è un laboratorio attivo da tanti anni per cui proprio attraverso il fare la ceramica era adattissimo con loro quindi ecco naturalmente il MAR il MIC questi grandi musei non vengono da noi ma tutti gli altri sì prospettive per il futuro ecco anche questo si era pensato è stata un'esigenza molto sentita tanti operatori responsabili didattica avevano chiesto di definire un protocollo di intesa con l'ufficio scolastico provinciale per riuscire proprio ad attivare un tavolo di lavoro per riuscire a pianificare in maniera sistematica le attività didattiche ma in questo diciamo questa è un'idea partita anche questa dal comitato scientifico come dire abbiamo trovato un po' di difficoltà ad andare avanti quindi una prospettiva anche quella sta un attimo in stand by speriamo che si riesca a sbloccare l'anno scorso la provincia ha effettuato un'indagine di nuovo presso i suoi musei in particolare presso i musei civici riferita all'assetto istituzionale l'assetto finanziario in generale le performance del museo anche per vedere in questi anni cosa era cambiato allora riguardando alle schede proprio in maniera esemplificativa quella che era la pinacoteca comunale di Ravenna nel frattempo ha cambiato nome si chiama adesso museo d'arte della città il comune ha sicuramente investito su questa realtà che adesso è gestita tramite istituzione conta sicuramente rispetto a Primo su un numero adeguato di professionalità museali con un direttore scientifico e va bene il conservatore era già in pianta organica devo dire che nel corso di questi anni ha proprio assunto tramite concorso parecchio personale per cui non solo responsabile della didattica ma anche un addetto alla didattica e in pianta organica per il resto poiché hanno una grande attività hanno appaltato a una cooperativa insomma il resto dei servizi didattici proprio per dare continuità a tutte le attività svolte vi dico soltanto che nel complesso il MAR l'anno scorso il questionario si riferisce ai dati del 2011 il MAR ha realizzato oltre 500 attività tra laboratori mostre conferenze e quant'altro e soprattutto come vedete non so se vi ricordate prima è aumentata sicuramente la fruibilità sono mediamente 100.000 visitatori l'anno inoltre ha rinnovato completamente l'allestimento adesso nel MAR anche la caffetteria il bookshop una sala proiezioni conferenze e quant'altro è un museo che adesso apre la sera anche organizza concerti aperitivi e quant'altro anche il museo Francesco Baracca in qualche modo come dire si è aperto al pubblico l'ha fatto innanzitutto riallestendo il museo quindi tutta la casa di Baracca adesso è museo è musealizzata ha aperto quindi un nuovo percorso un nuovo percorso espositivo e di conoscenza legato proprio tra l'altro non solo alla figura di Baracca ma proprio alla società nel periodo della prima guerra mondiale organizza mostre temporanee ha anche una sala didattica per cui regolarmente anche qui offre attività didattica inoltre ha iniziato a organizzare costantemente delle mostre temporanee in raccordo con altre istituzioni culturali del territorio quindi gli altri musei storici della prima guerra mondiale quindi penso Veneto Trentino Friuli ma non solo anche col ministero della difesa alla fine ospitando anche Baracca un militare il pezzo forte di questo museo è lo SPAD l'aereo su cui volava Baracca quindi però questa collaborazione con il ministero gli evalza insomma la possibilità di riuscire a organizzare e proporre diverse attività ecco l'ecomuseo come dicevo anche da museo si è trasformato in ecomuseo anche qui può contare adesso sul personale specializzato del comune quindi a un direttore a un conservatore e soprattutto mentre prima apriva solo per le in occasione esatto o di sagri o di mostre solo la domenica adesso invece ha un'apertura più continuativa infine il museo Venturini anche il museo Venturini grazie anche a contributi ricevuti dalla provincia dalla regione e tutte le azioni di sistema anche qui ha cambiato completamente faccia è in una nuova sede è aperto prima era praticamente chiuso solo aperto solo su prenotazione adesso è aperto a 50 ore settimanali ecco qui il comune però ha fatto una cosa diciamo furba nello stesso edificio ha messo la biblioteca civica e il museo e per un piccolo comune devo dire che è una soluzione che funziona sì sono persone però non questi 50 adesso no qui la friabilità 10.000 visitatori naturalmente non sono conteggiati quelli che vanno in biblioteca ma sono proprio quelli che vanno che vanno al museo e vi ricordate il museo Bagnara di Romagna grazie veramente c'è stato un gruppo di lavoro che ha lavorato per il scientifico che ha lavorato due anni coinvolgendo quindi anche la provincia e la regione per cui piano piano gli uffici del comune sono usciti hanno trovato una nuova sede la rocca è stata completamente riallestita e per fortuna non aveva bisogno di grossi interventi strutturali in quanto comunque c'era il comune ed è adesso un bellissimo museo museo archeologico ma anche il museo della rocca stesso quindi c'è anche un percorso all'interno della rocca bene quindi come vedete dopo volendo fare una fotografia dopo 15 anni di vita sicuramente sono stati conseguiti dei vantaggi soprattutto per i piccoli musei riguardiamo questa è la situazione attuale della proprietà ma in questo momento tutti i musei pubblici della nostra provincia aderiscono alla rete non tutti quelli privati sono esclusi ad esempio i musei ecclesiastici non sono mai voluti entrare in rete ma devo dire già una cosa positiva che invece in rete siano entrati due musei statali non a caso sono stati gli ultimi due ma ecco da parte dello Stato sicuramente c'è un'apertura quando hanno capito che è un tipo di rete dove è garantita l'autonomia perché certamente la provincia non può dire cosa deve fare allo Stato tanto è vero che nella convenzione si dice che gli standard regionali per loro sono un optional ma tant'è però comunque sono musei entrati in rete sono anche due musei molto come dire propositivi tra l'altro devo dire che entrambi sono musei nazionali ma in realtà anche le collezioni sono prettamente locali quindi comunque in rete ci stanno bene anche loro hanno tutta una serie di vantaggi a essere anche l'accessibilità come vedete è sicuramente cresciuta tra l'altro quel temporaneamente chiuso si riferisce all'ecomuseo che sta per aprire domenica quindi se avessi fatto quella lezione una settimana dopo non ci sarebbe un dato che va tolto continua l'apertura solo su richiesta o limitata quella a periodi come vedete lo standard in realtà è raggiunto delle 24 ore settimanali è raggiunto solo da 16 musei su 39 sono piccole realtà bisogna tenere conto quindi tranne le più grandi sicuramente il piccolo museo nel piccolo comune non ha neanche tutto sommato la possibilità di tenere aperto magari vorrebbe farlo sono molti che anzi sono aperti grazie soprattutto al volontariato anche quello che vi dicevo prima l'accessibilità è bene leggerla anche da più punti di vista ecco io qui ho semplicemente fatto vedere la distribuzione nell'arco della settimana sicuramente la situazione è migliorata sono cioè proprio ma anche la domenica prima era veramente pochi musei aperti la domenica adesso tanti musei offrono e aprono nel weekend lunedì è la giornata di chiusura per i musei almeno in Emilia Romagna e quindi è per quello che insomma proprio quel giorno lì è chiuso anche il numero dei visitatori che si lega all'accessibilità comunque è un dato interessante è un dato appunto anche perché ci fa capire che i musei del sistema si stanno orientando sempre più verso il pubblico quindi offrendo servizi aggiuntivi e proponendo tutta una serie di iniziative questa è la fotografia riferita al 2011 in particolare come vedete non sono molti sono due in particolare i musei adesso qui è rimasto 90.000 ma in realtà il MAR è un museo che soprattutto grazie alle mostre temporanee organizzate a livello insomma nazionale riesce ad incrementare così tanti numeri tra l'altro il 50% dei visitatori della massa complessiva di visitatori proprio la portano a casa di due tre musei esatto ecco anche qui come vedete la situazione è un po' migliorata comunque mediamente i nostri musei hanno una fruibilità media questo è il numero il grafico del numero dei visitatori parliamo negli ultimi anni una media di 350 450 mila visitatori nella totalità dei nostri musei ecco questo è quello che interessa anche per quello che dicevo prima il riconoscimento 11 sono i musei che hanno lo standard di qualità solo 11 si potrebbe dire in realtà abbiamo visto che raggiungere per i piccoli musei raggiungere determinati standard di qualità non è affatto facile spesso l'abbiamo visto dal grafico precedente non raggiungono proprio lo standard dell'apertura al pubblico non riescono a garantire le 24 ore di apertura settimanale per cui quello per esempio è uno standard che ha tagliato fuori tanti dei nostri piccoli musei quindi qui io finivo la prima parte quindi siamo in un periodo di crisi abbiamo visto quali sono le difficoltà comunque nonostante la rete le difficoltà dei piccoli musei e quindi ci chiediamo qual è il futuro delle istituzioni culturali proviamo a rispondere nella seconda parte non so che ore sono per cui se va bene ci sono delle domande prima di la dottoressa Antonacci direttrice del MAT di Sansevero lei ha parlato di alcune iniziative didattiche su cui non si è soffermata non so se lo farà nella seconda parte comunque festa della famiglia open days volevo che approfondisse ulteriormente e poi una seconda domanda il protocollo di intesa con l'ufficio scolastico provinciale lei ha dichiarato che presenta delle difficoltà siccome sto tentando di fare qualcosa del genere volevo sapere quali sono le difficoltà in modo tale da poter attingere dalle criticità che lei illustra risolvere le mie criticità grazie no prego allora per quanto riguarda le altre iniziative sul territorio l'open day è una manifestazione che veniva organizzata ogni anno anzi viene organizzata ancora adesso ogni anno in sinergia con le biblioteche e gli archivi della provincia quindi sempre come dire la provincia è l'ente propulsore dietro regia della provincia che coordina fa la promozione il calendario e quant'altro ma si invitano tutti i musei le biblioteche archivi storici della provincia ad aprire una domenica di ottobre prima era maggio poi diventata di ottobre e aprire le loro porte gratuitamente naturalmente e questo poi soprattutto per le biblioteche di solito la domenica sono chiuse i musei sono abituati a essere aperti ma comunque a pensare a un'iniziativa intanto su ogni anno si trova un tema particolare quindi insieme i direttori del comitato scientifico del sistema museale e quello della rete delle biblioteche decidono un tema anche se spesso ci lasciamo ispirare dal tema proposto quell'anno per esempio da ICOM nella giornata internazionale dei musei e è l'occasione anche per biblioteche musei archivi ad esempio di una stessa città proprio per evitare che si facciano concorrenza l'uno con l'altro quindi di organizzare delle attività in maniera integrata per cui appunto un percorso prevede proprio appositamente le tappe nell'archivio storico nella biblioteca e nel museo quindi diciamo questa è l'iniziativa l'altra forse oddio ho scritto così no era festa della famiglia vediamo dov'è ah quella sì giusto festa della famiglia scusi conosco bimba mia bimbo mio anche questa questa invece anche questa organizzata dalla provincia non solo come c'è un partenariato anche con altre associazioni culturali del territorio una domenica di settembre in particolare in un luogo scelto di solito nella città di Ravenna però viene organizzata una grande festa appunto per le famiglie dove tutti i musei e alcune biblioteche organizzano proprio un po' come al mare no questa volta sono in vari posti della città di Ravenna una volta al parco pubblico una volta nella rocca una volta nella piazza principale una grande festa dove i musei si presentano e offrono generalmente delle attività laboratoriali non solo appunto i musei in questo caso in prevalenza sono musei però non solo anche alcune biblioteche con letture animate e altre associazioni culturali teatrali ad esempio teatro ragazzi e quindi anche questo è un'occasione però per promuovere le attività didattiche dei nostri musei perché anche noi naturalmente che poi siamo lì al coordinamento abbiamo il nostro stand o comunque in tutti i musei che propongono dei laboratori si trova poi il materiale informativo del sistema i deplian promozionali e quant'altro questa soprattutto mentre l'open days è organizzato soprattutto a livello di musei biblioteche la festa delle famiglie bimba mia bimba mia vede la partecipazione anche di tante altre associazioni culturali o che lavorano anche nel campo del sociale e l'altra domanda un attimo un attimo sì lì come poi alla fine ho detto prima forse a parte le criticità iniziali ma poi ci siamo anche fermati cioè quello di capire a questo tavolo poi chi doveva sedere a livello proprio di sistema per cui se perché da una parte c'è la volontà di essere presenti i direttori dei musei ma in questo momento c'è anche come dire la difficoltà a esserlo il lavoro è raddoppiato magari l'assessore non ti lascia andare via troppo spesso per fare attività di sistema quindi inizialmente ci si era arenati anche per capire da chi dovesse essere composto questo tavolo quindi se a livello rappresentativo a livello di città o di tipologie perché in realtà poi tutti dicono beh ma ogni museo ha le proprie caratteristiche le proprie autonomie perché mi deve rappresentare il grande museo il piccolo museo se io sono diverso quindi inizialmente proprio banalmente questo è un po' il rischio di essere una rete con 39 musei da un certo punto di vista operativamente si lavorava meglio quando eravamo 20 ed è per quello che si sta cercando di spingere la rete a organizzarsi per macroarie quindi per a livello gestionale per unioni di comuni o comunque per comuni associati visto che di grandi comuni poi nel territorio c'è giusto Ravenna e gli altri no e poi per l'altra cosa che dicevo perché da due anni a questa parte attività che erano da avviare si sono fermate sono rimaste nel cassetto perché si è preferito visto insomma un po' di difficoltà non tanto economiche anche proprio organizzativi istituzionali che dicevo noi siamo da due anni che non sappiamo se ci aboliscono o non ci aboliscono la regione ci dà la delega non ce la dà ci tagliano i soldi o no per cui alcune azioni consolidate di sistema promozioni consulenze eccetera sono andate avanti quelle nuove invece si sono un po' fermate più che altro per quello anche nel rapporto con la scuola siamo andati a parlare loro non interessati hanno detto sì va bene risentiamoci quando avete le idee un po' più chiare quindi che ci fate una proposta precisa ma noi non l'abbiamo più come dire non siamo andati avanti da quel punto di vista io spero perché è un progetto a cui ci tenevo particolarmente per cui teniamoci in contatto che appena sappiamo qualcosa andiamo le faccio sapere come stiamo procedendo grazie ci sono altre domande? sì mi distacco un pochettino dai servizi educativi volevo sapere lo stato della catalogazione dei musei cioè se sono state avviate delle campagne di catalogazione con che sistemi? sì devo dire che per quanto riguarda la catalogazione l'ente che segue maggiormente questo settore è l'istituto beni culturali della regione è un istituto come dire caratteristico proprio della regione Emilia Romagna che è una situazione unica in tutta Italia ma che ha proprio tra le tante funzioni quasi sempre di pianificazione o programmazione però operativamente operativamente si muove molto proprio sulla catalogazione per cui sicuramente il supporto maggiore viene dato dall'Ibc la provincia come le dicevo dà dei contributi inserisce inserisce nei piani museali annuali i musei segnalando alla regione quali sono i casi che necessitano maggiormente di un intervento rispetto a un altro e da questo punto di vista naturalmente la regione ascolta la provincia che è sicuramente il polso della situazione rispetto rispetto a loro per quanto riguarda la situazione tra l'altro esiste l'Ibc ha anche un catalogo online dei beni quelli appunto digitalizzati con una campagna fotografica digitale di fotografica dove sono presenti attualmente 80.000 beni che riguardano i musei del sistema per quanto riguarda in generale la catalogazione anche qui situazioni disparate buona molto buona per alcuni musei i musei maggiori sicuramente il MAR il Museo Internazionale delle Ceramiche ma anche la Pinacoteca di Bagnacavallo la Pinacoteca di Faenza hanno tutto il materiale catalogato altri quelli piccolini invece ecco la situazione insomma non è rosea l'Ibc d'altra parte e la provincia stessa negli ultimi anni non riesce più ad aiutarli da questo punto di vista anche l'Ibc ha molto rallentato i servizi di catalogazione la gran parte dei beni catalogati sono su schede cartacee sì sono ancora su schede cartacee man mano che vengono digitalizzate vengono riversate in questo catalogo che è online che è il catalogo del patrimonio dei beni culturali però è chiaro la maggior parte sono esatto poi adesso che un nuovo museo il Bici perché è inserito nel piano appunto provinciale inizia una campagna di catalogazione in uno dei nostri musei è chiaro che lo fa in maniera digitalizzata subito con un sistema particolare oppure il museo è libero di no allora il museo è libero naturalmente di catalogare se lo fa da solo se lo fa con la regione segue naturalmente lo standard catalografico della regione che è poi quello nazionale grazie altre domande no? ok ci vediamo nel pomeriggio verso le tre mi auguro che ci sia una certa presenza anche nel pomeriggio grazie sì certo perché vi devo raccontare che cosa facciamo grazie a tutti 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 grazie a tutti